Settimana molto travagliata, molto particolare, infermeria stracolma e abbiamo avuto delle problematiche con alcuni giocatori che hanno preso dei traumi durante la partita come per esempio Mace, Scott e Filloi. Quindi la gestione degli allenamenti non è stata molto semplice organizzare gli allenamenti. Martedì è finito l'allenamento, Ganeto dopo ha accusato un fastidio all'uduttore e mercoledì l'abbiamo fermato. E quindi siamo stati in emergenza tutta la settimana e continueremo a esserlo anche oggi. Per quanto riguarda l'aspetto di Roma, credo che quando abbiamo parlato di Rieti la settimana scorsa vi avevo accennato come esempio Eurobasket che è una squadra rognosa. Credo che Riccardo è stato pure bravo a dare le giuste informazioni per quanto riguarda questa squadra. È un gruppo vincente che ha vinto il campione di Serie B, è un gruppo basato su una buona assatura di giocatori italiani come Stanic, come Malaventura, come Righetti. Hanno aggiunto Bonesio che è un buon giocatore e i due americani che sono dei giocatori che hanno punti nelle mani come De Lodge, che è un giocatore che crea tanto dal palleggio, che ha talento, che l'anno scorso mi sembra che ha finito con 18 punti di media e Tony Isley che è un eccellente atleta, che è un giocatore molto pericoloso dentro l'aria, un giocatore di pick and roll, un giocatore che corre molto bene il contropiede è un giocatore che va sempre a rimbalzo offensivo, quindi c'è tanta pericolosità anche lì dentro.